vi piacciono le classifiche tipo le top 10 in cui si fa il conto lo rovescio di qualsiasi cosa da 10 a 1 per arrivare alla fine dopo 30 minuti a me mai piaciute eppure in teoria dovrei essere un boomer quindi facciamo presto a scoprire chi sono i piloti su cui punta ducati in moto gp e perché non ho i mezzi tecnici per montarle come una tv e come migliori influencer ma ho questa maglia di lucchinelli che mi consente di fare praticamente quello che voglio ricordate se vi è piaciuto il video di mettere il pollicione attivare le notifiche e iscrivervi al canale e se invece preferite ascoltarmi non vedere la mia faccia e vi capirei potete ascoltare i podcast su spotify sprecare tutte le piattaforme che li supportano attenzione la classifica non ha niente a che fare con le capacità di ciascuno e non è detto che a fine stagione non ci potranno essere delle sorprese in quel caso forse ducati cambierà idea ma per adesso le preferenze sono queste almeno fra piloti attualmente sulle rosse perché sì qualcun altro potrebbe ancora arrivare allora le cose cambierebbero all'ottavo posto c'è bezzecchi bravo ragazzo per carità è discretamente veloce in moto 2 qualcuno dice sia persino più veloce di luca marini ma purtroppo è arrivato in moto gp in omaggio nel pacchetto e secondi più in ducati non se lo filano settimo posto per di gian antonio non ha niente a che fare con le sue capacità è però digia è una promessa nel senso che aveva un contratto con gresini quando ancora c'era fausto e quindi per una serie di obblighi morali professionali di correttezza si trova su una ducati moto gp anche lui e sia chiaro non rubato niente nessuno però insomma i fatti sono questi sesto posto per luca marini con un adotto di 20 milioni all'anno almeno questi erano i soldi attesi sarebbe stato anche più simpatico e magari anche un po più su in classifica per ducati e probabilmente durerà qualche anno grazie alla sua protezione familiare ma di lui ducati non si interessa molto altrimenti gli avrebbe dato un'assistenza factory e invece con il budget ridotto last minute dal flop tan al aramco sta bene così quinto posto per miller sembra incredibile che un ufficiale sia al quinto posto però la verità che l'australiano stava già per andare via l'anno scorso difficile il suo ritorno in pramac qualcuno dice che sia atteso in superbike soprattutto se bautista non dovesse portare a casa il titolo che poi sarebbe anche l'ambiente più adatto al suo stile di guida al suo carattere che è quello di una persona magnifica sembra il pilota perfetto per le derivate di serie quarta posizione per zarco se non si sveglia può rimanere in pramac solo se quando martin sarà andato via non ritornerà anche miller altrimenti ciao tanto un francese che interessa i media c'è già e in pramac la seconda guida non è per lui indovinate per chi ora fare ordine nella top 3 o top 3 non è una faccenda semplice diciamo che potrebbe creare qualche dissapore e non essere scontata secondo logica il leader dovrebbe essere bagnaia ma deve vincere il mondiale altrimenti altrimenti niente perché tutti e dico tutti sono innamorati di martine tutti credono che abbia talento appalate secondo gli addetti lavori la guida l'analisi dei dati che fornisce talento diciamo il cervello sono quelli di un predestinato e da solo vale quanto tutto il vivaio ktm che ha speso decine di milioni ma in ducati non vogliono bene solo a martin perché bastianini che teoricamente non dovrebbe essere nemmeno nei quattro fa paura e stupisce ogni giorno vedi record della pista a sepan per questo motivo pur avendo una gp 21 ha uno step evolutivo avanzato e un pacchetto tecnico che testimoniano tutta l'attenzione di borgo panigale nei suoi confronti incluso il contratto diretto con ducati che a tutti gli altri privati tranne martin che poi privato non è manca luca marini per esempio non ha un contratto diretto con ducati come bastianini insomma l'ordine sarebbe bagnaia martin bastianini ma solo se le cose finissero per andare in un certo modo altrimenti solo in quello altrimenti potrebbero esserci dei grandissimi sconvolgimenti e voi pensate che la classifica di ducati sia giusta avete altre idee fatemelo sapere saluti da mister realmente ciao